Droga, armi, rapine. Il gruppo, formato da 12 persone, si era specializzato in diverse attività criminali. La mafia catanese cerca di alzare il tiro per reperire le risorse necessarie alla continuità del proprio operato. In manette sono finiti i componenti di un gruppo, il cui vertice era stato affidato dal defunto boss Paolo Brunetto a Pietro Carmelo Olivieri, che sostituiva il fratello del boss Brunetto, ovvero Salvatore. Un giro di nomine per gestire diverse attività come i reati al patrimonio, soprattutto rapine, furti di veicoli, spaccio di cocaina e marijuana, il controllo delle attività commerciali, attraverso anche l'imposizione di impiegare, come addetti alla sicurezza, alcuni affiliati ai clan. Una vasta operazione condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Catania su delega della procura distrettuale. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Etneo ha anche raggiunto 5 persone già detenute per altri reati. Il gruppo, affiliato alla famiglia mafiosa del Santa Paola Ercolano, operava su gran parte dell'Interland catanese ed in particolare sul territorio di Castiglione di Sicilia, Giarre, fiume freddo di Sicilia.